Al progetto Case Mapp l'amorosità è alle stelle. Con l'autunno arriveranno bollette salatissime. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Cambiare Insieme e i DV, Lelio De Santis. Nel silenzio generale il progetto Case Mapp continua a produrre debiti ingenti a carico del comune e della collettività. Questo ritardo nel calcolo del consumo del gas comporterà l'emissione di mega bollette di migliaia di euro che anche se rateizzate gli inquilini avranno grosse difficoltà a pagare. avverrà quello che si verificò con la precedente giunta comunale che tardò nell'operazione di emissione delle bollette fino al 2012 e poi furono emesse bollette salate pesante per i consumi di gas e per i canoni di affitto creando serie difficoltà per i pagamenti. Ma ancora più serio è il problema dell'irrisolta questione della transazione con banca sistema nonostante le dichiarazioni dell'assessore al bilancio che aveva annunciato una sua rimodulazione. Ad oggi il comune è totalmente inadempiente rispetto all'intesa e ha pagato con fondi di bilancio solo 20 delle 32 rate d'importo di 273.000 euro, l'ultima delle quali risale ad aprile 2018. È altrettanto preoccupante secondo De Santis la situazione finanziaria nei confronti del soggetto gestore della fornitura dell'energia e della manutenzione, la società Antas, che riscuote un canone di circa 3 milioni l'anno senza che ci sia l'adeguata copertura dei costi, considerato che il comune sta incassando dalla riscossione con una media mensile di circa 40.000 euro. In passato, per molto meno, conclude De Santis, la Corte dei Conti si occupò del problema. Ecco perché non posso tacere rispetto ai ritardi di azioni amministrative che mettono in seria difficoltà le casse comunali.